Picco di contagi nel comune di Capaccio Pestum, sabato scorso dopo giorni di stabilità per la città dei templi, si sono registrati in un solo giorno 19 persone positive al covid-19. Ieri invece altri quattro positivi portano il totale di cittadini contagiati a 56. Da alcune testimonianze di cittadini informati sui fatti pare che ci sia stato un vero e proprio veglione di capodanno la notte del 31 dicembre, a partecipare alla festa in gran parte giovani cittadini del posto che imbarba alle restrizioni imposte dal governo per le regole anticontagio, hanno allegramente brindato e festeggiato il nuovo anno. In questa lista di 19 persone contagiate ci sono anche genitori di alcuni ragazzi che hanno organizzato la festa. Sono numerose le ordinanze di isolamento che il primo cittadino Franco Alfieri ha firmato per i cittadini in questione, al lavoro e i vigili urbani del territorio per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti ed elevare sanzioni per violazione delle vigenti norme anticoronavirus. Nella vicina Agropoli sono invece quattro i contagi che sono stati trasmessi nel report serale dal primo cittadino Adamo Coppola. Attualmente in città ci sono 28 persone positive. Resta fermo a venerdì 9 gennaio invece il report dei contagi nel comune di Castellabate che ha registrato solo due nuovi positivi, 81 gli attuali cittadini che hanno contratto il virus. Inoltre il comune di Castellabate con l'ordinanza numero 3 del 10 gennaio 2021 dispone dall'11 gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 un ulteriore allentamento delle misure restrittive previste nei precedenti provvedimenti.